Con questa interrogazione ho voluto semplicemente porre alla vostra attenzione la preoccupazione e anche la perplessità di decine di lavoratori precari che mi risulta abbiano i loro contratti in scadenza tra pochi giorni, direi alla fine del mese corrente. Erano quei precari appunto assunti per far fronte alle emergenze delle pratiche tecnico-amministrative nelle zone del cratere, non soltanto, anche qui in Regione, comunque in ogni caso a questioni connesse alla ricostruzione post-sisma, con i contratti cosiddetti flessibili tramite società interinali, tramite tre bandi, obiettivo lavoro, vince il primo bando, lo rivince nel secondo, ci risulta, il terzo viene vinto invece da un'altra agenzia interinale, parte un ricorso di cui non si conosce l'esito. Nel passaggio della commessa da una società interinale all'altra, cioè da obiettivo lavoro a manpower, si è instaurata una procedura giudiziaria che ha reso incerto il soggetto che eseguirà la commessa. I lavoratori da poco assunti con contratto a tempo indeterminato dalla società, quindi obiettivo lavoro, la prima vincitrice del primo bando, la cui commessa è appunto in scadenza, si ritrovano quindi ad avere incertezza in merito alla loro riassunzione e al mantenimento della stessa forma contrattuale che gli era stata poi garantita dalla prima agenzia interinale. L'intento quindi dell'interrogazione è dare chiarezza e garanzia a questi lavoratori. Grazie. Si precisa che il commissario e le sue strutture stanno lavorando per garantire la massima continuità a tutti i contratti in essere, presso le sue strutture, quelli degli enti locali delle prefetture, come previsto anche nel decreto relativo verbale di esecuzione anticipata citato nelle permesse del quesito posto. Tutto questo al fine di garantire la piena continuità del processo di ricostruzione, avvalendosi al tempo stesso del patrimonio di professionalità e di esperienza acquisiti in questi tre anni intercorsi dal sisma. Proprio in quest'ottica, a seguito della ricezione del ricorso sulla procedura di gara da parte del secondo classificato, l'obiettivo lavoro si è deciso di procedere con tale esecuzione anticipata del contratto con Manpower e SRL, al fine di evitare l'interruzione dell'attività a supporto della ricostruzione pubblica e privata e di assistenza alla popolazione. Il commissario e le sue strutture, infine, stanno comunque mettendo in atto tutte le misure possibili per far sì che i lavoratori a tempo più determinato. Con l'obiettivo lavoro possono mantenere le medesime condizioni contrattuali anche con il nuovo giudicatario Manpower. A tal fine sono stati svolti e sono in programma ancora oggi in conto con i fornitori, i rappresentanti delle forze sindacali, per raggiungere il massimo delle tutele e delle garanzie di questi lavoratori, il cui contributo, proprio per l'esperienza acquisita in questi anni, per raggiungimento degli obiettivi di costruzione pubblica e private, risulta per noi fondamentale. Certamente apprezzo le buone intenzioni e anche le parole adatte alla situazione significative. Ricordo che questi lavoratori sono in scadenza tra pochi giorni e ci risulta che ancora oggi non abbiano ricevuto però alcun tipo di informazioni rispetto al loro molto prossimo futuro, la settimana prossima. Mi dispiace quindi che una maggiore garanzia nei fatti, oltre che le parole che ricordo certamente sono gratis e quindi si possono spendere in sovrabbondanza, che una maggiore garanzia non venga proprio da una giunta che si ispira non soltanto a valori di sinistra, ma anche alla ripetizione molto frequente del concetto di appunto lavoro, 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 dell'insonnia dovuta alla mancanza della possibilità di creare posti di lavoro per tutti e via dicendo. Noi ribadiamo la necessità che la giunta invece sia attivi presso per garantire ai lavori interinari che hanno lavorato nei comuni quella continuità che ci sembra lecita anche per non disperdere un patrimonio di formazione. Questi sono lavoratori che si sono già formati, la stessa regione ha contribuito a formarli. Quindi un forte turnover limiterebbe anche la qualità e la quantità del lavoro degli uffici tecnici e amministrativi della regione, oltre al fatto che ricordo qui, quando eravamo qui durante la giornata dell'insediamento, si è detto che nessuno doveva essere lasciato da solo. Questo è stato detto dalla maggioranza. Allora lasciare da soli questi lavoratori che si sono resi preziosi nell'erogazione di un servizio e la cui professionalità e la cui competenza espressa sembrano acclarati negli atti della regione ci sembra particolarmente grave.